E carissimi, carissime amiche, bentrovati, bentrovati in questo sabato, fine settimana, e andiamo a commentare qualcosa di quanto ho visto ieri sera per il caso di Liliana Resinovic. E hanno ieri sera ancora una volta tentato la solita sceneggiatura goliardica da soppopera, da gossip, ma non ha sortito, credo, ieri sera lo stesso effetto, in quanto c'era uno sterpin, quando hanno fatto vedere che ormai, diciamo, c'era tutto, fa un po' pena, ecco, nel suo lamento solitario, ecco, ma ne parleremo dopo di questo fatto qui. All'inizio la puntata tratta di queste labili tracce di DNA maschile che sono state trovate, ma che alla fine non ve sanno mai identificate, perché, diciamo, sono insufficienti per una identificazione, poi, quella famosa traccia sul cordino, poi, è inspiegabile come mai sia stata fatta il raffronto soltanto con Sebastiano, lo sterpin è salvo, e non si allarghi un po' ad altre 20, 30, 50 persone, più o meno nell'ambito delle conoscenze. Poi, si è parlato dei ricorsi, ricorsi che contestano la perizia, e diciamo che il GIP solo per questo potrebbe anche accoglierli, visto che questa perizia, effettivamente, più la si legge, più la si analizza, e più ha degli aspetti, direi, imbarazzanti. Una perizia che dice tutto e il contrario di tutto. Addirittura, per le lesioni e il sangue che si copriva il volto, ecco, di Liliana, si arriva a ipotizzare, come abbiamo letto, che lei si è caduta, cioè, mentre andava lì, nella sua convinzione di farla finita, non si sa perché, cade, cade senza mettere le mani avanti, c'è niente, cade appeso morto, batte la testa e lei esce il sangue, ma guardate, ma fin dove si arriva, no? Esce il sangue, e quindi lei si mette le mani in faccia, si imbratta di sangue, e poi, e poi lei si mette questi sacchetti, però guarda caso, guarda caso, poi non imbratta più niente. Come dice bene il generale Garofano, è impossibile che poi, con le mani sporche del di sangue, non ci sia qualche traccia sulla parte esterna dei sacchi neri che si sarebbe messa. Ora, non la vogliamo smettere di fare queste ricostruzioni, che sono racconti, diciamo, di fantasia. Ecco, e anche la ex PM pugliesi dice, a mio parere ci vogliono nuove indagini, non fosse altre per dirci quando è morta questa donna, non si può dire a noi non interessa, veramente è la prima volta che capita anche a me di sentire una cosa del genere, cioè una chiusura di indagini basata sul dire si può essere suicidata, non si sa se è 20 giorni prima o 20 giorni dopo, perché a noi non interessa controllare o sapere cosa ha fatto questa donna per 20 giorni. Beh, credo che sia qualcosa veramente di inverosimile, perché secondo la perizia, la morte risale a 48 ore prima, quindi come non può interessare dove sia stato, se con la sua volontà, secondo la sua volontà e dove soprattutto. Mi sembra veramente, solo queste sono delle argomentazioni che dovrebbero quantomeno bastare per il GIP. E diciamo che sono delle contestazioni più che altre di ordine tecnico, manca il movente, ecco, se noi andiamo, spostiamo l'attenzione su quelle che è la nazionale di questi mesi, di questo oltre un anno, manca il movente, perché appaste la, insomma, tutta la barzelletta, la Sebastiana che non voleva che lei andasse a coronare il sogno della vita, beh, 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 il movente vero manca, lo dice pure Nuzzi, manca il movente e accenna timidamente per la prima volta, dice ma fa che sia un movente economico? Ecco, per la prima volta lui accenna finalmente al movente economico, che poi è quello, diciamo, sostanziale. Ma io avrei sperato che dopo queste parole si avesse più coraggio, invece parlano sì di un movente economico ieri nella trasmissione, ma parlano di questo movente in relazione a quei 50.000 euro che Liliana aveva in banca e che potevano far gola chissà chi nell'ambito della famiglia e forse Sebastiano mi ammirava a quei soldi e forse la pensione di reversibilità, insomma, i codici bancari, si è parlato, che Sergio avrebbe detto che stavano dietro a un quadro, si rimane nell'ambito più o meno di quello che si è sempre detto. Poi non si riesce a capire pure secondo quale fine, diciamo, ecco, Sebastiano avrebbe dovuto fare chissà cosa per avere questi 50.000 euro che in effetti già erano suoi come mariti, insomma, loro vivevano e non gli mancava nulla, credo io. E quindi vado a sé che il fratello Sergio, la cugina Radin e tutti coloro che non vedevano di buon occhio Sebastiano tendevano in qualche modo a far passare l'idea che, insomma, lui mirasse a questi soldi, non si sa perché. era, come dire, un'accusa che, per quanto riguarda il movimento economico di Sebastiano, non seggeva. Per quanto riguarda il movimento sentimentale, non seggeva assolutamente nemmeno questo. Allora, quando si sono resi conto che materialmente, da tutti i risconti, Sebastiano non poteva essere coinvolto fattualmente in un eventuale omicidio e diciamo che ho visto nei mesi scorsi impazzire tutti, mossi, mossi evidentemente da una sorta di odio, di antipatia forte, di vecchia data contro questo Sebastiano. Ce l'aveva? Era, come dire, l'elemento della gruppia disturbante per loro, perché si vede che con Liliana magari avevano più terreno festile e con Sebastiano no, quindi c'era una forte antipatia, quantomeno, di vecchia data. Dice bene Carmelo Abbate, quando a un certo punto dice, fatevene una ragione, non è stato lui a uccidere Liliana. Fatevene tutti una ragione, non è stato lui ad uccidere Liliana. E meno male che, a parte i suoi spostamenti, i coltelli, le consegne, e meno male che sono usciti questi video dell'uscita di casa della Resinovic. Altrimenti lì si batteva il chiodo, il chiodo per dire che Liliana non era mai uscita di casa, che era stata fatta fuori, che era stata nascosta in cantina, che era stata messa in un frigorifero, si diceva tutto. Purtroppo, man mano, questi sospetti sono naufragati in maniera definitiva. Io aggiungo pure, fatevi una ragione, che Liliana non voleva mai, e poi mai, andare a vivere con lo Serpina. E fatevi una ragione, che se quel giorno lo Serpina è impazzito, così, subitaneamente, in pochi momenti, in poche ore, e solo, a mio avviso, per poter giustificare i tanti contatti telefonici che poi sarebbero emersi da un controllo, come poi si è verificato. E quindi, io credo che l'uomo sia oggi costretto a recitare fino in fondo, fino in fondo, la sua parte di cantare alla luna, di dire io l'amavo, lei voleva venire da me, eravamo perfettamente d'accordo, eccetera, eccetera. Ormai, come dire, al lupo al lupo, e non gli crede più nessuno. Questa è la verità. quindi, quel servizio di ieri, di pochi minuti, per il suo compleanno, è stato veramente qualcosa di penoso. Questo serpino che festeggia gli 84 anni con un, vedete, con un atteggiamento da vedovo, ecco, da vedovo inconsolabile di Liliana, ecco, da un vedovo, dice, è il secondo compleanno senza di lei, come se lui viveva una vita con questa Liliana. È il secondo compleanno senza di lei, ormai la mia vita è una vita di m, puntini, puntini, ma prima voglio sputare, perché questo fatto di sputare è una cosa che lui piace dire, come il fatto dello spritz, del cimitero, sono degli argomenti ricorrenti, anche lo sputare, quindi voglio sputare a quelli che l'hanno uccisa e poi posso anche morire, poi si chiama la mostre, ci sono due anni che si chiama la mostre, ma, insomma, forse è per esorcizzare pure questa cosa, ma, quindi, è un, è un vero campione, se fosse di Napoli direi che è un vero campione della sceneggiata napoletana. E, vedete, talmente poi traspare questo suo livode, questo suo odio per Sebastiano che, anche davanti a quelle immagini che noi abbiamo visto e rivisto della Desinovic, che è uscita, camminava con le buste in mano, dice, non lo so, se è lei, non lo so, ma se è uscita, ecco, paventando l'idea che quella non sia lei o che sia una sosia, non lo so, ma se è uscita, non, perché doveva avere quelle buste, avrebbe buttato l'immondizia lì nei cassonetti che sono lì e fuori casa sua e non a 600 metri, ora, io non lo so, perché poi Sebastiano dice che la differenziata sta soltanto lì nell'isola ecologica e che vicino a casa sua non ci siano queste, questi cassonetti della differenziata, io non lo so, io ho sempre sostenuto, cioè, in questi giorni, che può essere anche che quel fatto di andare con le buste in mano fino all'isola ecologica sia qualcosa come un segnale, come un segnale distintivo, cioè lei esce con queste buste, esce in maniera anonima senza portare nulla per andare incontro a qualcuno che non conosce per una situazione che poi si è rivelata fatale e che si fa di conoscere solo per una donna con delle buste in mano della spazzatura, magari una donna piccola con giubbine con tre o quattro buste della spazzatura in mano che le va a conferire all'isola ecologica, quindi, quindi voglio dire non è che ce ne stanno tante nello stesso momento, no, credo che quello sia un segnale perché altrimenti magari, ecco, avrebbe magari conferito la differenziata da qualche altra parte se ne aveva la possibilità. Comunque, mi sorprende anche il Sebastiano è lì in studio che non lo so, cioè, come fa a dire che di non riconoscere non riconoscere la Liliana di Piazzale Giobesti? Certamente se si vede l'immagine da lontano si vede un puntino però con l'ingrandimento che noi abbiamo visto appare distintivamente che lei stessa andatura stesso modo di muoversi insomma e anche il fatto di essere di seguire quei due uomini sempre seguire quei due uomini ma pure una sequenza logica anche come tempistica cioè dall'isola ecologica che passa davanti alla fruttivendola e pochi secondi dopo sulle strisce pedonali quindi ci troviamo perfettamente sincronizzati e quindi e quindi dico Sebastiano ci è o ci fa voglio dire come fa dovrebbe dire secondo me che alla luce di quando si vede molto probabilmente è lei se non sicuramente quindi in studio in studio gli opinionisti sono scettici insomma sulla sulle decisioni che potrà prendere il GIP che potrebbe anche archiviare perché si dice mancano i nuovi elementi ecco ma la colpa che manchino questi nuovi elementi è un po' anche dell'informazione che si è troppo fossilizzata vedete quindi si parla ad esempio si accenna a questo movimento economico e ci si ferma al conto in banca allora quale movente economico vuoi tirare in ballo si sorvola diciamo sugli aspetti essenziali cioè si sorvola sul momento economico inteso come stile di vita ecco stile di vita personale delle spese di quelle che aveva in casa di quelle che compravano di come vestivano di tutte quelle cose lì e quindi degli aiuti che si dava in famiglia agli amici si sorvola sull'aspetto economico non ufficiale quello dei soldi liquidi si sorvola anche sulla versione integrale del del video che che immortala la la Liliana dove si vedono appunto anche queste due persone sospette che magari non c'entrano nulla però danno l'impressione prima di di seguire poi di precederla specialmente il secondo quello là di dietro sembra che sia lo stesso che poi sta a piazzare Giovestri quindi poi vi ripeto la spiegazione di quei sacchetti conferiti nell'isola ecologica può essere anche un un segnale un segnale preventivato e poi quel quel guardare di Liliana nella borsa per 3-4 secondi come per cercare per verificare se ci fosse il necessario certamente non credo che andasse a verificare se ci fossero i sacchi neri nella nella borsa che appare piena di qualcosa ecco ricordiamoci che lei esce in forma anonima ecco è inutile che per mesi mesi e mesi si è detto sempre per incolpare Sebastiano è uscito senza la fede no amici miei è uscito senza nulla è cosa ben diversa senza nessun anello di riconoscimento senza green pass senza cellulari senza documenti senza casti di credito questa è la verità e non si vuol dire è importante indice che doveva incontrare persone alle sconosciute che non dovevano riconoscerla per qualcosa che non si sa ma è evidente che è qualcosa legato al denaro io credo che sia chiara questa cosa qua la storiella poi della wind a proposito ogni tanto dice lei allora non andava alla wind allora come mai ha detto che andava alla wind e poi non ci ha andato e forse perché voleva giustificare il ritardo che avrebbe fatto ora dire la storiella della wind a mio avviso non è mai esistita e nemmeno può essere una scusa per non andare subito dall'osterpine perché poi l'osterpine stesso quando vede che lei fa un piccolo ritardo già la compulsa con quei messaggi poi cancellati poi cancellati qui dice aspetto un segnale aspetto sempre un segnale qualunque questo sia ecco quindi lui sapeva che quella uscita era propedeutica non alla wind ma propedeutica a fare qualcosa ecco il segnale che aspetta ma voi pensate no ma come si può credere che una esca vado un attimo alla wind a fare cosa senza documenti senza soldi senza casti di credito senza green pass senza appuntamenti senza telefoni cosa va a fare entra e cosa dice dice buongiorno io non c'ho nulla di nulla però voglio fare un'operazione quale operazione di cosa basta veramente un minimo di buonsenso ma ormai si ragiona ormai è diventato un luogo comune se domandate pure a un bambino dove andava Liliana Resinovic la mattina quella mattina che è uscita alla wind non è vero non è vero semplicemente non è vero per una ragione logica sa tutto qui la differenza ma se nessuno parla ecco se nessuno si sbottona su questo argomento denaro finisce qui sono ipotesi che noi poi non possiamo fare il passo ulteriore perché non ci sono le verifiche dovremmo essere come dire nel campo della malavita dovremmo essere nel campo della finanza occulta per sapere esattamente di cosa si trattasse quindi certamente credo che siamo di fronte a un esapimento forse diciamo effettivamente è stata viva diversi giorni la Resinovic per qualche tentativo di rimediare a una situazione poi è stata punita il corpo è stato restituito così sanguinante nei sacchi della spezzatura sempre perché chi doveva capire capisse insomma questa questo segnale ecco per me questa è la verità che non si può non si vuole andare a fondo quindi il GIP purtroppo non ha i poteri di aprire un nuovo fascicolo secondo questo indirizzo qua non ha questo potere noi dobbiamo soltanto augurarci che il GIP secondo le motivazioni che hanno adotte gli avvocati sia di Sebastiano che della famiglia opposizione di carattere tecnico riguardo l'aperizia medico-legale soprattutto voglia effettivamente disposere che il PM dare di nuovo la palla ai PM per fare ulteriori indagini e che poi i PM autonomamente alla luce di cercare nuove strade vadano ad incanalarsi ecco su questa strada che che penso io perché altrimenti se tu restituisci la palla ai PM essi già hanno motivato ampiamente le loro convinzioni passeranno altri altri 5-6 mesi e saremo punto da capo a confermare l'archiviazione se vogliamo andare a scoprire altro dobbiamo parlare di altro e poi un'altra ultima riflessione quando ho detto che in quel filmato specialmente il secondo signore di dietro che prima segue poi precede Liliana si vede abbastanza bene diciamo la sua fisionomia con l'ingrandimento quindi è strano che se fosse un signore della zona lì di Trieste perché camminava a piedi lì dovrebbe riconoscersi quantomeno o qualcuno lo dovrebbe riconoscere in modo che togliamo questo dubbio perché se si riconosce o viene riconosciuto da qualcuno diciamo no quello è questo tizio qua che andava a fare quella commissione lì che abita lì che lavora lì invece non si sa quindi persone che se non si conoscono significa che vengono da fuori e quindi si legittima ancora di più poi il dubbio che questa persona possa essere addirittura implicata nel sequestro non è possibile che nessuno si riconosca io quelle immagini le manderei ogni giorno per vedere se qualcuno riconosca o si riconosce in quel signore che portava quel sacchetto addosso quello smanicato che la cui fisionomia appare abbastanza ben definita quindi ci vuole coraggio sicuramente ci vuole coraggio per intraprendere questa strada e vedremo vedremo ormai la palla sta già in mano al jeep vedremo se ci sarà la volontà di andare avanti in questo senso grazie grazie sempre un abbraccio buona domenica e ciao a tutti alla prossima